Ormai conosciamo bene l'immenso amore che padre Pio aveva ed ha nei confronti dei suoi figli spirituali e dei fedeli in generale. Oggi, infatti, il frate di Pietralcina è uno dei santi più conosciuti e amati al mondo. Tutti sanno di cosa è capace. Con l'infinità di prodigi che il buon Dio gli ha permesso di compiere, il frate con le stigmate è uno dei santi più venerati al mondo. Però, come ben sappiamo, egli era già ritenuto un santo quanto era ancora in vita. E nessuno meglio degli abitanti di San Giovanni Rotondo aveva potuto ammirare i miracoli che Dio gli ha permesso e ancora oggi gli permette di compiere. La testimonianza che mi accingo a raccontarvi parla proprio di una signora di San Giovanni Rotondo, la signora Polina, la quale è una persona molto religiosa che viveva nella grazia di Dio. Cioè, era una di quelle persone che manteneva il peccato fuori dalla sua vita e quindi faceva parte di quelle rarissime persone la cui anima era già degna del paradiso. Era quindi, per dirla con le parole di Padre Pio, una di quelle rarissime persone che erano totalmente corrette e lige, nel cospetto delle quali perfino i confessori arrossivano. In quanto era una di quelle rarissime persone nelle quali i confessori non trovavano materia per applicare la soluzione, in quanto in lei non vi era niente o davvero poco da assolvere. Verso la fine del periodo quaresimale la signora Polina si ammalò gravemente. I dottori avevano tentato il possibile, ma ritenevano che per lei non c'era più niente da fare. Il marito della signora Polina, accompagnato dai loro cinque figli, si recuò al convento di San Giovanni Rotondo da Padre Pio, dove supplicò che Padre Pio intercedesse presso Dio affinché egli guarisse la moglie. I figli fecero lo stesso e i due figli più piccoli, i due bambini, addirittura si attaccarono al saio di Padre Pio pregandolo di guarire la loro mamma e mentre chiedevano ciò piangevano. Padre Pio, che come sappiamo aveva il cuore molto buono, si commosse con solo tutti quanti e promise loro di pregare per la signora Polina. Qualche giorno più tardi iniziò la settimana santa. Molta gente andò ancora una volta da Padre Pio per chiedere la guarigione della signora Polina. Di colpa Padre Pio rispose loro e la risposta che gli dette lasciò tutti a bocca aperta. La risposta fu la seguente. Resusciterà il giorno di Pasqua. Il venerdì santo Paolina perse conoscenza e alle prime ore del sabato santo entrò in coma. Poche ore dopo morì. I familiari di Polina, seguendo un'usanza del luogo, presero il vestito da sposa per metterglielo. Infatti, secondo l'ustanza, sul letto di morti alle mogli veniva messo il vestito da sposa. Altri familiari, invece, corsero da Padre Pio al convento. E ancora una volta chiesero a lui di fare qualcosa per guarigione Polina. Il frate di Pietralcina ribadì. Resusciterà, vi dico. Detto ciò, si girò e andò a celebrare la messa. Era il giorno di Pasqua. Le campagne annunciavano la resurrezione di Gesù. In quell'istante, mentre recitava il gloria, la voce di Padre Pio si spezzò e iniziò a tremare e dai suoi occhi cominciarono a scendere delle lacrime. In quello stesso istante, raccontavano poi i familiari di Polina, Polina si era risvegliata. Con l'aiuto delle sue stesse forze, quindi senza che nessuno l'aiutasse, scese dal letto, andò a piazzarsi nel centro della stanza, si inginocchiò e recitò per tre volte di seguito a voce altissima il credo. Dopodiché si alzò e sorrise. Stava benissimo. Era quindi resuscitata. Infatti, come abbiamo visto, Padre Pio l'aveva detto. Sarà resuscitata il giorno di Pasqua. Chiaramente le fu chiesto cosa le fosse successo nel periodo di tempo in cui era stata morta. Polina rossì e la sua sola risposta fu salivo, salivo, ero molto felice. Stavo per entrare in una grande luce, molto bella. Ma poco prima di entrarci sono tornata indietro. Sono tornata qua giù. Quella fu la sola e unica risposta che dette Polina su quell'argomento e non aggiunse mai più altro al riguardo. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.